Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Epatite infantile ancora ignote le reali cause di questa patologia. Il virologo dell'ASL di Pescara Paolo Fazzi cerca di chiarire alcuni aspetti e rassicura ai genitori. Non bisogna preoccuparsi, incidenza ancora bassa. Nuova epatite infantile, che cos'è? È una forma di epatite verosimilmente virale, adesiologia ancora ignota, dove però c'è chi sospetta che possa essere un virus noto, l'Atenovirus, che è una famiglia di virus che è in grado di dare delle gastroenterite. Solitamente da una gastroenterite benigna, che dura tra l'altro anche poco tempo, e sembra che in alcuni soggetti, in una fascia d'età che va da 1 a 16 anni, soggetti evidentemente predisposti dal punto di vista costituzionale e genetico, questo virus, probabilmente mutato, possa poi dare un'epatite. Allora, l'incidenza oggettivamente è molto bassa, per cui non possiamo preoccuparci di una patologia al momento, per quello che se ne sa e con i dati che abbiamo, ad incidenza così bassa. Certamente un genitore si preoccupa perché sente parlare di epatite, sente parlare anche di trapianti, eccetera. Però oggettivamente io penso che serenamente uno debba stare abbastanza tranquillo, oltretutto queste forme di adenovirus hanno delle stagionalità, quindi magari fra qualche mese girerà molto poco questa forma di adenovirus che dà una gastroenterite e speriamo che non ritorni più. Non tutti quindi vengono ricoverati, non tutti i bambini? No, possono tranquillamente essere osservati, anche oppure in the hospital e valutati. Noi stiamo valutando insieme al professor Arrico, che è il nostro primario della pediatria, un caso di una bambina, ormai lo sapete tutti, di 15 mesi, che non è attualmente ricoverata. La stiamo osservando, fortunatamente è una forma benigna di epatite che sta risolvendosi. Abbiamo trovato in questa bambina un tampone con un numero molto elevato di copia di adenovirus, adesso dovremo mandare i campioni clinici all'Istituto Superiore di Sanità, che in questo momento si occupa a livello superiore di questa diagnosi più fine che non possiamo fare noi in provincia, per vedere effettivamente se c'è un nesso causale. Non lo so, non lo posso dire io adesso. Può darsi pure che ci sia questo nesso tra adenovirus e questo tipo di epatite, però torno a ripetere, l'esiologia è ancora ignota.